E se noi vogliamo riferirci a portare a Lisbona, a maschere, a te, lo specifico, se noi usciamo da un euro non si capisce come usciamo da un euro. Venendo presente al mondo e che io vedo che la prossima volta bisogna andare nella pertinenza del merito, che questi sono i tavoli dell'economia, i tavoli specifici, se veniamo qua e facciamo politica autonoma, di filosofia personalista, poi ce ne andiamo quando è il momento di avere la contodisposta, non c'è dialettica e comunicazione, ma non è polemica, ma è oggettività. Nel momento in cui questo aspetto ha una sua valenza, lo ha oggettivamente, si insiede nel merito che se noi usciamo dall'Europa, usciamo dall'Europa, non dall'Europa concettuale, ma usciamo dall'Europa, usciamo dall'Europa, con la sudditanza che abbiamo adesso e non l'avessimo mai più, possiamo andare anche in bancarotta. Cioè qual è la realtà di uscire? Non lo sappiamo, noi parliamo di oggettività quantitativissime, si parla. Cosa detengono? Flussi di capitale che arrivano, i fondi europei, cosa detengono? Elementi di soldi che noi diamo, 36.000, 37.000, e ne ritornano quasi mille. Quando una politica nazionale stabilisce questi soldi, io sono anche che cerco di creare delle strutture, le agenzie si chiamano specifici, con l'intervento del disagio specifico, che non riesco a gestire. Uno studente non può fare questo, un imprenditore non può fare questo, ma degli sono i fondi europei, una specificità. I soldi che noi diamo, o che diamo tramite banca, e che non sono soldi nostri, lo sono in modo indiretto. I soldi che arrivano qua servono per stappare i bucchi del bilancio delle parti. Allora, vi fermo e vi faccio capire, che non è argomento di stasera questo qua, è un'altra dimensione, se no andiamo in dispersione totale, diciamo anche schizofrenia al peroro, e non quantifichiamo l'oggettività. Quindi è inutile venire qui, si dice una corollina, va bene, perché se no saremmo dei militari, però non potremo continuamente andare per la tangente, se no non è concreto e non è produttivo il discorso. Le risorse, le risorse politicamente ha una vostra valente, senza, se tu, in Italia, con la dispersione sui problemi reali, ma già per quanto riguarda il welfare, per quanto riguarda la cassa integrazione, si si rivede tutto questo, si si rivede tutto questo, e i soldi, vorrei dire ci stanno, senza parlare, è aereo che è carne, che non funziona, senza parlare di tutti e di più, ci stanno, è un problema poco, di tipo, identificato in questa chiave di lettura, come i cinque punti, ritorno a dire, uno dice, questi sono i cinque punti, se no non è un uomo di cinque stile, è una cassa diretta parte dal basso, lo sappiamo, noi ce lo ripetiamo, andiamo avanti, effettivamente, sul concreto di quello che è, questo qua, ce ne stanno al 50 tavolo tecnici che dovranno arrivare alla regione con le idee chiare per proporre, oggettivamente, una filosofia politica di programma, che è stato il primo problema che non si è mai affrontato, si è affrontato prima, poi individuare chi ci doveva andare e poi io mi cambio, quindi stanno proprio, non in ritardo, stanno proprio tutto un raga a denuncazione diretta, scusa. Volevo aggiungere una cosa, il fatto di distruttarsi, una cosa importante, perché noi in questo mondo, o meno non non siamo in nostro tentativo, è quello di ristabilire la sovranità monetana, ma soprattutto politica, perché noi per esempio abbiamo Renzi che più delle volte si è detto, ma non so se l'ha fermato ma sì, è a favore di tutti i figli e Obama ci vuole mettere gli OGM su tutto il territorio italiano già adesso abbiamo solamente i centri commerciali giganteschi dove non viene più venuta la roba italiana hanno cominciato abbassando i prezzi, quindi trovano solamente il burro tedesco queste cose esatto uno dei punti quindi noi siamo obbligati per un periodo c'è stato questo momento che in Monaco stavano 4 euro dal filo perché venivano dal Cile oppure avevano deciso che si dovevano stare di prendere arance ma non chiede a dispetto di quelli siciliani queste sono state votate anche da Corradino Nimeo e la Pinocchia vanno recuperate non solo i nostri nostri prodotti ma va recuperata anche la nostra dignità perché in Italia è finito perché è finito nei primari dei cinesi o di altri popoli che facevano tutto quanto a basso per cui io credo fortemente che sia necessario avere la nostra sua vita quello è l'elemento primario però io lo voglio chiarire no no io lo voglio chiarire a parlare io sostanzialmente siamo stati candidati siamo in Europa e anche con i nostri parlamentari abbiamo fatto il nostro programma una campagna elezionale per le europee e mi sembra di capire a meno che io non abbia votato qualche altra cosa che comunque noi siamo non per l'uscita dall'alluvione ma per un altro concetto di unione sostanzialmente anche quello che noi stiamo facendo qui domando adesso non è un refereto per abolire l'euro ma per votare quindi perché tra gli italiani se il boi non lo abbiamo in tre e come di votare qualcuno non è che si perché sono neanche non vogliamo ne usciamo l'alluvione anche perché noi altrimenti da commentare l'interno di questo ma l'altro era contro le province no dico questo in generale economico c'è stato dall'altro comunque una riforma insomma che stavano che stavano che stavano molto per dare il concetto di noi stessi e poi una polipessa aiuta la mia la mia io ricordo su quello che è probabilmente una cosa che ci dobbiamo dare una richiesta insomma Maurizio mi ha visto per capire io non è che dicevo noi non dobbiamo lavorare dal basso anzi secondo me è questo il problema però è che ci deve stare sempre una comunicazione dobbiamo capire anche chi fa cosa altrimenti andiamo nel non fare nulla assolutamente perché ci perdiamo ci ricordiamo però non facciamo anche un comunicato sul non credo che è una cosa che noi non abbiamo nemmeno capito se ci vogliamo stare dentro se ci vogliamo stare dentro non è una proposta capista non capisco nel senso innesso insomma è questo perché secondo me noi dobbiamo darci degli orientativi ma anche abbastanza immediati cioè sostanzialmente vogliamo uscire vogliamo uscire almeno entro da questa da questa unione per capire voi non siete successivi nel 28 e darci che cosa vogliamo lavorare vogliamo lavorare sulle linee guida io penso che per quanto riguarda la velocità di Nazza non è che siamo qua che siamo i tecnici che dobbiamo preparare tutto l'aspetto dell'ordinamento legislativo comunque farà parte del programma quello del programma ma è questo che le linee guida proprio su questo argomento ce l'hanno dato proprio da nazionale non è che ci potete di costare ci sono belle pronte stiamo tranquilli su questo dicio quindi fondamentalmente io direi darci proprio dei conti concretamente avete un'oggettività di valore questa era mia cosa io tanto aprevo dire una cosa molto vicina all'ultima sua parte non so quanto sia banale perché io non so che cosa a che grado lì specifica voi siete subiti però guardando ascoltando la discussione mi sembra arrivare a dire che siamo fermi ancora una linea di principio il che per me è molto preoccupante se il 2628 dobbiamo dare le linee guida per cui quello che propongo operativamente è che magari la prossima volta si venga con una lista delle cose da decidere all'interno della legge tutti i segni cioè la cifra qual è la cifra che decidiamo di destinare gli aventi diritto i criteri le coperture e per ogni elemento invece di discutere così senza traccia il moderatore dice la cifra si discute si decide a maggioranza perché poi non sarà quella se ho ben capito andiamo a un tavolo di confronto regionale no? sì però cerchiamo di arrivarci con uno scheletro di proposta e non con una linea di principio bellissime cose ho sentito attorno a questo tavolo però noi come gente del mondo che ci sta dando queste cose le continuiamo è inutile che veniamo a ricondiliderle a questo tavolo siamo tutti dalla stessa parte ragazzi siamo qua per quello quindi stituiamo il tavolo operativamente e la prossima volta punto per punto diciamo andiamo a procurare questo andiamo a procurare questo andiamo a procurare questo andiamo a procurare questo andiamo a procurare oltre ma proprio scusate che sei l'introfolo ma voi che comunque state nello scaso vogliamo chiedere voglio dire se nel programma cioè avete dei candidati scusami però un minimo di contatto voglio dire in questo senso se quello che loro chiedono ai vari tavoli e poi non la loro porti ma i vari argomenti che stanno sviluppando vogliono una precisione così che noi ci dobbiamo fermare o vogliono esclusivamente quelle che dico io delle linee guida innanzitutto e poi degli argomenti che noi vogliamo e proponiamo perché se noi non sappiamo quello che effettivamente si vuole portare come programma noi faremo un lavoro meticoloso magari su un argomento e ci ritroviamo con tante altre argomentazioni teniamo fuori il titolo faccio un esempio per te voglio banalizzare ma invece secondo me fa chiarito questo questo lavoro finirà in un ufficio legislativo allora noi un ufficio non è questo è così noi siamo cittadini prestati alla politica quindi dobbiamo indicare che cosa è morale per noi che sia in questa legge non dobbiamo declinare il regolamento con il quale questa legge la cifra gli aventi diritto in che modo i criteri le coperturano queste cose qua comunque sono delle indicazioni non è che noi abbiamo le cifre esatte non è che andiamo a individuare noi i criteri perché ci saranno le concertazioni con le parti sociali non è che possiamo decidere noi se non è stata ci lasciato nessuno va in minima noi li possiamo impreare soprattutto quelli che sono più ultimi nella propaganda politica che noi faremo per le elezioni sono molto poco efficaci sono efficaci per la raccolta di contributi e documenti ma poi lavorare insieme prendere decisioni a maggioranza è una cosa che si fa i cavoli e di tutti non abbiamo tanto tempo si deve farla passare io voglio dirare le fie dato che penso che abbiamo finito quello che lei ha posto in essere oggettivamente è il problema primario quando si parla di comunicazione non si parla della comunicazione che deve arrivare ma anche di comunicazione intera come dicevano loro come abbiamo detto tutti noi nel momento in cui si sta operando in un certo nome questo tavolo che sta lavorando produce oggettività se lo stanno per DND se c'è stato deciso da qualc'altra ma non per un problema di decisione dall'altro quindi il coordinamento regionale dato che questo ci sta si sarebbe dovuto fare una riunione regionale che mai fa anche per te scusami dove nello specifico finisce nel dinamore regionale e non dico cittadina si tiravano le fila della oggettività di quello che si stava facendo perché se tu dici la cifra la cifra senza entrare nella cifra di filosofia ma come riferimento e noi vogliamo parlare di tutto e di tutto se non sappiamo il programma qual è ancora non si è capito quale è un programma regionale e non è che loro sono giustamente candidate ma se poi alla fine serve che una realtà si ponga in evidenza rispetto a un'altra senza entrare nella polemica e che ne sappiamo per queste reali oggettivi quando andiamo alla regionale non abbiamo ancora fatto una riunione regionale è sbibicolo questo è quello che volevo cioè praticamente qua stiamo ragionando soltanto questo tavolo riguarda solo Napoli ma noi di Benevento Avellico Salerno Caserta dove è noi non sappiamo assolutamente nulla ma su tutti signori vi invito su tutti i tavoli su tutti i tavoli di discussione una volta la curva non ha mai parlato non è un contraddittore ma è un problema quello che dici tu è un problema del movimento riconosco il nostro modo posso quindi penso che se si deve sovradire chiudo se si deve sovradire si deve creare questo elemento oggettivo perché se no si fa come domanda risposta stiamo facendo questo questo voi che state facendo qua voi che state facendo là voi che state facendo là tutto questo ha un'identità comune è organico è funzionale è oggettivo e tutti se no altrimenti fate voi il lavoro francese io veramente ti rubo pochi secondi sto notando da quando abbiamo iniziato tutti questi tavoli di lavoro che non c'è proprio non esiste proprio una sinergia tra noi che stiamo a Napoli e gli altri capologhi di provincia quindi noi non abbiamo minimamente idea ad Avellino Benevento Salerno e Casetta sui nostri stessi temi di che cosa stanno discutendo di che cosa stanno parlando sperando che domani loro a meno non c'è una non c'è un'unione di una cittadina regionale ma noi tra 20 giorni 30 giorni 3 mesi ma noi che cosa andiamo a parlare di che cosa e con chi che è l'importante questo è con chi sto stiamo a parlare sì scusate lo sfogo però è soprattutto un compito dei candidati a questo farsi carico sì ma è il fatto che comunque vado a continuare a parlare la questione è questa noi al momento abbiamo fatto a livello di candidati abbiamo fatto due punti il primo era proprio conosciuto il secondo è stato più interessante perché ci siamo occupati di 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 chiusurismo e di beni culturali separandoli perché per me devono rimanere separate e per fortuna così è stato fatto domani ad Avelino saremo probabilmente tutti quanti i candidati saremo tutti quanti lì ad Avelino ma l'osservazione che volevo fare è proprio di volta a Francesca perché Francesca ha un metodo da manuale americano nel senso che ogni volta che un capitolo si va alla non-versione deve tirare fuori un risultato in qualche modo mentre invece c'è una tradizione che è italiana che viene dall'antica Grecia che è questa omissione di elementi che sono contraddittori e che quindi devono essere e io trovo sempre molto più utile quello che viene fuori dalle contraddizioni che si presentano durante le discussione piuttosto che un risultato che sembra essere matematico perché non è mai quello esatto ma quello che vale è proprio la discussione che nasce attraverso attraverso tutti gli elementi del programma che andiamo ad analizzare quindi io non ho paura di non trovare un risultato finale a fine del tavolo così come per esempio in temi che si concludano io dico devo sapere cosa di dire alle persone io non so cosa dire perché l'ho detto anche ultimamente ai nostri portanoci l'ho detto chiaramente a San Giovanni abbiamo un problema di inquinamento devo dire cose che devo dire alle persone che mi dicono che mi dicono che mi sono morate l'ho detto quindi io non ho problemi né peri sulla lingua né problemi di nascondermi l'ho detto facevo un discorso differente è filosofico se tu vuoi analizzare la mitologia che è piena di contraddizioni non ci sono personaggi bui positivi e personaggi gattivi questa cosa insegna che le cose quando è contate volta per volta non è che c'è un vincitore alla fine questo è quello che voglio dire e le discussioni più diventano animali e genuili e più vengono fuori degli abbonati interessanti quindi io sono stata contenta anche di quello che ho detto va bene non mi sono se troviamo tra noi due o tre persone che si vogliono occupare di approfondire la nostra proposta e valutare vagliare anche quello che c'è a livello regionale per la prossima noi non sarebbe male magari due o tre persone proposta nazionale e quella regionale della campagna per cercare di capire su che cosa possiamo puntare in campagna su questo tema due o tre persone sempre su questo tema di cui stiamo parlando quindi se la regione nazionale deve dare dire di cittadinanza solo che le politiche sociali le hanno affrontato però sicuramente la riunione di oggi è stata chiamata su è possibile non fare una domanda a passare allora siccome può essere elemento di punta di rompente che noi possiamo avanti allora si potrebbe concentrare su questo piuttosto che disperderci su troppi argomenti sperando che comunque voi domani a Dallinino poniate il problema e quindi di marciare di piedi però da qua escono due o tre normi di persone che magari portano di idee diverse non sarebbe male che se ne vogliono occupare se è che se ne vuole occupare andiamo per l'alzata di mano ma ti inviare che non può fare io si vada sicuramente se tu stai sul terzo del posto se sei qui grazie 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 Ma quanto è il generale? Gianni, quanto è il generale? E noi, quanto è il pubblico? Ci senti il pubblico, ci senti il pubblico, ci senti il pubblico, ci senti il pubblico Io qui sono un cittadino partecipato, ci siamo in un pubblico, ci senti il pubblico E io chiudo la registrazione, ci aggiorniamo alla prossima Grazie, buonasera, arrivederci Hai ripreso? Sì, sì, sì Tappo! Ciao! Adesso il tappo è finito Ci sei visto che siamo riusciti a venire, insomma La macchinetta è salva